27 febbraio ore 21.05 mi trovo al Teatro Olimpico di Roma dove sta per iniziare il più grande festival di magia italiano che è appunto Supermagic, come sapete io sono un grande appassionato di magia e giochi di presidigiazione e veduti a Supermagic qui al Teatro Olimpico e naturalmente su www.matubo.com Ciao